ragazzi cosa pensate di conte al napoli una bomba orologeria nel vero senso se tutto funziona che si incastra una settimana i meccanismi giusti no 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 cioè può essere una una stirpe veramente che conte potrebbe creare a napoli sì ma le cose prima o poi andranno male bisogna capire quando nel momento in cui ci sarà qualcosa che scricchiola scoppia la catastro guarda la faccia di daniele brogna che lo voleva al milan daniele conte magari ce l'avessi a milan e alla fine ragazzi è incredibile un allenatore comunque come conte che si è mezzo offerto alla juve si è senza mezzo offerto al milan e alla fine gli è toccato accettare il napoli che era la sua seconda terza scelta era la sua era la sua seconda terza scelta gli è toccato andare al napoli perché altrimenti non lo prendeva nessuno ragazzi alla juve non si è solo mezzo offerto anche perché si è molto offerto anche al milan il suo il suo secondo il suo vice stellini anche ha fatto una un'intervista a lombardia mi pare un paio di settimane fa dove praticamente è lì col piattino che gli dice ci prendete o no siamo qui se ci volete prendeteci cioè poi è chiaro è chiaro che quando sei in ballo con un progetto come il napoli poi conte è uno che si carica c'è sicuramente poi il popolo napoletano un popolo che t'abbraccia da quel punto di vista quindi sicuramente riuscirà a creare un'atmosfera unica sarà sarà veramente tra virgolette un inferno tornare a giocare a napoli sicuramente al prossimo anno e su questo io non ho il minimo dubbio il fatto che lui si sia fatto approvare nello staff oriali è una mossa tra l'altro molto intelligente perché mette un cuscinetto tra dirigenza e allenatore perché oriali diventa un cuscinetto chiaramente una figura molto importante da quel punto di vista e anche il fatto che de laurenti si abbia accettato secondo me è un indicativo quindi se riuscirà a lavorare bene col gruppo squadra e su questo non ho dubbi perché antonio conte poi quando riprende una panchina vuole vincere secondo me il napoli il prossimo anno si batterà senza coppe si batterà assolutamente per lo scudetto io su questo non ho dubbi scusami perché quest'anno quando si diceva senza coppe la juve di lottare per lo scudetto io lo dicevo che doveva lottare per lo scudetto io lo dicevo che doveva lottare per lo scudetto con le pernacchie napoli non è la stessa 80 anni no ma soprattutto il napoli l'anno scorso lo scudetto l'ha vinto sul serio la juventus è qualche anno che manca lo stesso napoli senza kim senza kim ma era la stessa squadra è arrivato nono poi per carità non ti non ti non ti non ti dico di rivince che lo scudetto ma arriva secondo terzo quarto no decimo dai guardando gli ingaggi si è capito perché il milano ha puntato a conte lui otto milioni fonseca due e mezzo praticamente meno del triplo c'è meno di un terzo però io questa cosa qui questa cosa qui io mi chiedo del milan poi per carità fonseca secondo me anche un bravo allenatore su questo non ci sono ragazzi le sommosse popolari per non far venire una persona di solito queste sommosse popolari vengono sempre smentite la juve con allegri il prima la prima nel nel primo allegri non lo voleva nessuno ha vinto 9 scudetti all'inter a cerbi sono mosse popolari per non farlo venire è il migliore della difesa da quando è arrivato chi il primo il primo anno di pioli al milan si sono mosse popolari vengono smentite poi quindi daniele fatti coraggio però che cosa sposta fonseca rispetto a pioli secondo me niente è un pioli è un pioli straniero è un pioli straniero ma scusate io questo mi chiedo dal momento che comunque una squadra deve contenere i costi vuole un allenatore che non sia troppo protagonista troppo accentratore troppo ma scusate ma a quel punto per andare a prendere fonseca che comunque non è che arriva da stagioni quest'anno ha fatto bene all'ill e peraltro anche cercato l'obiettivo stagionale ma non era meglio a quel punto andare su un profilo come italiano palladino cioè ma ragazzi io l'avevo detto tipo parti con un progetto finito il ciclo pioli hai una squadra comunque forte con un progetto strutturato italiano e palladino hanno dimostrato che sanno dare un'identità alla squadra hai citato tre quattro allenatori italiani e la sensazione veramente che il milano cercava come primo requisito uno straniero è così ragazzi è così cioè da quello che si dice come se non avesse una fan base in italia una cosa del genere perché ma il milano cercava assolutamente giocatore hai ragione e non ho capito nemmeno io il perché veramente sembrava proprio che ogni pretendente italiano fosse scattato a priori secondo me la logica era il meno conosciuto possibile cioè meno accentratore possibile esatto il più basso profilo possibile ma ovviamente non troppo scarso ma io capisco anche la logica del tifoso milanista scusatemi è va via pioli voglio conte libero e quale squadra c'è conte libero non ci prova vedi che non cozzano le richieste i conte perché ibra conte l'avrebbe voluto domani non cozzano le richieste la società ma allora se vedo che de zerbi c'è lo spiraglio vado su de zerbi comunque prima di arrivare a un allenatore come fonseca va bene vuole 5 milioni se abbasso se abbasso la richiesta o comunque la voglia di spendere prima di arrivare a profili stranieri di quel tipo ma veramente vado su italiano sarri ragazzi palladino io capisco che conte chiede più del triplo no quindi 8 milioni non sono pochi per un allenatore però santo dio per me l'allenatore tanto importante quanto un top player che tu puoi avere più il top top player degli allenatori quindi prendendo conte non significa che vinci assolutamente però significa dare un messaggio chiaro ed evidente quindi quei soldi lì va piuttosto veramente prendimi un giocatore forte in meno ma puntiamo su sto cazzo allenatore io non capisco il motivo per cui alcuni alcuni scartate a prescindere poi posso che otto milioni sono tanti ma come dici tu c'è de zerbi la piglia de zerbi prendi de zerbi ma ti posso fare posso fare una domanda peperina daniele che mi devi rispondere in maniera seria allora avete invocato soprattutto voi tifosi l'ingresso in società di brahimo delusissimo come se fosse il salvatore come se fosse a me sembra che lui faccia adesso non ce l'ho con la king's league per di va benissimo viva la king's league tutto quello che volete guardatela non lo so ma adesso si è messo a fare pure la king's league cioè io se fossi un tifoso del milan e fa san remo e il film con carlo verdone e la king's league a me mi sembra preso da tutto da tutto per le robe che servono per il milan io se fossi un tifoso del milan sarai delusissimo guarda per non è tanto quello che fa in top cioè per me può anche andare a fare l'avellina non è quello il discorso e quando e quando poi manca tutti il resto che scoccia finché va a san remo quando giocava e poi in campo segna a me non me ne frega nulla il discorso è quando ci sono tante cose corollario e poi sei lì a essere un po anche il garante tifosi del milan e punto primo non parli io io non sento parlare ibra mai e mai da nessuna parte non lo fanno parlare secondo me se tu sei il garante del milan e si è messo lì per quello a parte che si è assunto da eliot e non dal milan a sta cosa pure non l'ho capita ma da red beard che vabbè la stessa cosa però dettagli dettagli ah tra l'altro non fare il fenomeno tu che l'altra volta sei stata assente casualmente casualmente proprio il lunedì che eravano che si è stati ceduti al fondo sparito su americano io su americano io su americano da notare come tutte le fonti giornalistiche quando era il milan ricordi il milan com'era quel titolone il milan ha toccato il fondo il fondo ha toccato il fondo adesso l'inter stessa identica cosa l'inter cambia gestione diventa americana pensate che bello essere zan comprarsi una casa mi fanno il mutuo non pago il mutuo mi fanno stare lì otto anni ma io la piscina le cose ma io e poi me ne vado li saluto veramente bello veramente apro e chiudo parentesi vi giuro vi aspettavo tutte le conclusioni possibili immaginabili ma non questa piuttosto mi aspettavo che vendesse